Sì, allora sicuramente l'ultima partita ci ha lasciato il segno e con questa carica abbiamo voluto cercare di fare bene, di ricominciare, anche perché non è facile giocare sabato, di giocare mercoledì, quindi vogliamo cercare comunque di tirare il meglio anche nelle nostre condizioni fisiche, dato che comunque manca gente, ci sono stati nuovi acquisti, stiamo cercando di oliarci ancora un po' tra di noi anche come squadra. Sì, è stato un periodo abbastanza stressante, sembrava che per noi non dovesse più cominciare il campionato, quindi anche con la prima di campionato ci siamo scaricate e soprattutto anche adesso dopo una sconfitta di sabato. Ogni squadra ha sempre il potenziale per vincere, la bella della pallavola è che ogni partita è a sé, quindi anche contro Nata, contro Argentari, insomma i derby non sono mai scontati. Poi ovviamente magari essendo locali ci si conosce un po' meglio, quindi magari qualche vantaggio in più ce lo si ha, però sicuramente è un buon girone e vogliamo impegnarci per riuscire comunque a tenere testa agli altri. Sì, è sempre una nostra caratteristica fare fatica nel primo set, però insomma ci piace pensare che siamo un po' un diesel, dobbiamo un attimo cominciare ad andare. Sì, il servizio è una cosa su cui stiamo puntando molto, ma sono convinta che è una squadra che nel momento in cui fa le sue piccole cose fatte bene riesce a trovare anche più possibilità e quindi a dare vita a un gioco anche più efficace, insomma, partendo dalle basi ovviamente. Io personalmente vorrei riuscire a recuperare la fiducia di cui ho bisogno adesso dopo un intervento al crociato e poi ovviamente tutto quello che viene in più come vittorie, non dico niente perché non si sa mai e ben venga. Sono contenta, la squadra è una squadra che comunque ci sostiene tutte, quindi sono contenta anche che riescano, insomma, a darmi l'appoggio di cui ho bisogno adesso. Adesso vedremo, sabato giochiamo contro Modena e quindi speriamo di fare un'altra buona partita. Sì, sono stretti, oltretutto per noi crediamo anche fare tre recuperi, non sarà facile, però cercheremo di dare il meglio e tirare le corde alla fine.